E' in programma lunedì 30 agosto alle ore 11 presso l'Aula Consiliare di Filippo di Agropoli la conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione del Settembre Culturale al Castello. Il tema di quest'anno è Dante Alighieri e la conoscenza. Interverranno alla conferenza stampa il sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola e il consigliere delegato alla cultura, beni culturali e pubblica istruzione, nonché ideatore della rassegna Francesco Crispino. Grazie a tutti.